c'è un positivo ha fatto che vinciamo bene noi siamo e poi ci sono realizzato dalla presioneierra con la presione al petto che non mi sta avversando facciamo il 4.50 poi l'ho scegliato la nostra medioterapia e' la gente c'era questa più grande conllata poi è in un'altra cosa che la gente ha fatto che ti stava portando e il salo che ti c'è controllo è giusto per chi non poteva e questo è una cosa che stava là e questo è un po' 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 Grazie a tutti